sapete che ci piace seguire il calcio direttantistico quello cosiddetto tra virgolette minore più minore passatemi la cacofonia grammaticale e mettiamo minore ancora una volta tra virgolette certamente più in basso di un torneo tra vecchie e glorie non ci può essere però direte voi che ci venite a fare allora ci veniamo perché quando c'è una manifestazione tipo vecchie e glorie che poi serve per la beneficenza è un piacere anche per noi di domenica gol e di sovrata 1 in generale seguire queste manifestazioni siamo al campo nunzio marino che sappiamo in estate è stato sede della samara arena abbiamo avuto tantissime partecipazioni grandi performance oggi abbiamo la performance di vecchie e glorie di giovani di qualcuno che cerca ancora di farsi onore in campo valerio e cristiano voi siete avversari oggi oggi sì in questo momento però siete ovviamente amici della vita presentate per la manifestazione sì innanzitutto grazie alla vostra rete per essere sempre presente oggi è un torneo di beneficenza come ogni anno cerchiamo di replicare questo evento per raccogliere il più possibile nei confronti dei ceti meno abbienti principalmente questa volta i protagonisti saranno i bambini dell'ospedale di Soverato e del comprensorio catanzarese già in accordo con il primario di pediatria di catanzaro infatti cerchiamo di donare il più possibile giocattoli per chi è meno fortunato di noi e forse passerà il natale in ospedale un grazie particolare e concludo lo vorrei fare all'amministrazione nella persona di sara fazzeri come servizi sociali e di cristian castanò il quale è sempre disponibile ad aiutarmi ad organizzare questi eventi oltretutto oggi gioca a calcio ma ormai il suo sport non è più quello perché si è trasferito a un'altra disciplina che quella del pugilato e devo dire che rende anche bene dietro la scrivania pure allora il sindaco l'hai lasciato in divisa non da cacciatore vi guarda però voi in questo momento state rappresentando il comune sì in questo momento stiamo rappresentando l'amministrazione comunale ho avuto l'input da valerio come ogni anno questa è la quarta edizione di questo torneo di beneficenza che facciamo ogni anno appunto per i ceti meno abbienti come al solito io e l'assessore sarà fazzeri abbiamo accolto subito la richiesta di valerio il sindaco oggi è un pochettino influenzato quindi l'abbiamo lasciato in panchina per così dire però è presente qui con noi alla manifestazione è un grazie a voi perché siete sempre presenti in queste manifestazioni e quindi giocare così con questo spirito è una cosa diversa non c'è agonismo ci si diverte ci sono le vecchie glorie che io purtroppo mio padre non c'è che fuori ma di solito gioco anche contro mio padre quindi è bello anche per questo è una cosa vicino al natale poi non è un ambiente è un'ambientazione bellissima diciamo la verità tornare su questo campo dove è stato sede è stato questo campo sede di tanti tornei organizzati proprio tra vecchie glorie ci alzavamo la mattina alle 7 per venire a giocare qua con la felice memoria del professor iliano quindi possiamo ricordare qualcosa e allora quando contate di fare poi la prima la presentazione di questi regali come la manifestazione che avete organizzato al termine del torneo sicuramente raccoglieremo tutte le varie quote successivamente in settimana andrò io di persona ad acquistare i giocattoli poi in accordo con l'amministrazione nel giorno di natale penso o poco prima andremo a donarli e naturalmente poi renderemo visibile quello che abbiamo fatto e bisogna spendere una parola su su soverato dal punto di vista della beneficenza siamo reduci da una da diverse manifestazioni nei confronti di orlando e ritengo che soverato sulla beneficenza sull'amor proprio dei propri concittadini sta rispondendo bene mi auguro che possa mi ha rubato una domanda che dovevo fare al sindaco non la faccio più perché adesso ricordiamo che c'è per esempio voi fate anche durante i periodi delle feste del natalizio il pranzo con noi effettivamente anche abbiamo molte manifestazioni come ricorrenti ogni anno come il pranzo natalizio che organizza sempre l'assessore Sara Fazzeri alle politiche sociali e il 24 di vigilia quindi noi a pranzo mangiamo sempre in sala consigliare e col sindaco che veste i panni non del sindaco ma di babbo natale allora questa volta lo salutiamo effettuosamente il sindaco spero che lui ci guardi da lì e allora non è questo il caso perché ho detto più minori non ci poteva essere ma ci date qualche risultato cosa sta succedendo in campo per adesso è in vantaggio l'amministrazione io ho visto un arbitro che ha toccato la palla con le mani ve l'ha data a voi vi ha regalato un rigore l'arbitro è lì mi sta guardando è quello guardate inquadratelo ha toccato la palla con le mani e ve l'ha data vi ha dato un rigore inesistente tipo non parliamo di caso per adesso mi sa che la squadra di luigi criscuolo in vantaggio noi no è già perso mi hanno detto mi luigi criscuolo è un altro che è sempre partecipato questa manifestazione con la sua palestra e la prima partita è stata giocata tra vecchie glorie e la palestra di luigi criscuolo hanno vinto le vecchie glorie e rigori con una grande prestazione di pino il portiere di pino ha segnato parato tre rigori e tu non ne hai segnato ma lui essendo presidente della società più che altro vuole creare la squadra per cercare di vincere ma ancora non ci riesce da quattro anni con quella pioggia non era la bellezza di questo sport non mi toglierete mai da queste posizioni inutile che dite che dobbiamo andare a fare la seriale io sto bene qui con loro grazie di nuovo per quello che avete fatto allora se ne stanno se ne vogliono andare gregorio non te ne andare vieni qua tu fai parte sicuramente delle vecchie glorie franco pavoni tu gregorio non credo no 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 che parte che squadra facevi vecchie glorie adesso sei diventato vecchie glorie adesso io non sono stato mai vecchie glorie io stavo guardando questo sole che mi potevo godere hai giocato ha giocato anche a carte non lo so che cosa è giocato non hai giocato a carte hai fatto l'allenatore no 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 non ho fatto l'allenatore non ho fatto sei soltanto uno spettatore uno spettatore che è passato da queste parti non ci credo no gregorio che ha fatto ci ha guardato ci ha criticato pure si è il suo hobby non è vero è il suo hobby c'è sempre che le vecchie glorie avete vinto ancora una volta e si era con voi dimmi qualche nome torniamo per in casa il numero uno abbiamo detto tutto il numero uno una bella manifestazione franco davvero una bella manifestazione quando si fa per solidarietà e per efficienza per forza questo mi fa immensamente piacere perché la cosa più bella che ci ha portato di aiutare quelli che stanno peggio di noi e questa è la cosa più importante questa è una bella cosa perché dovuto e voluto secondo me non so da chi ma ha fatto delle belle cose sì valerio e christian insieme con altri ragazzi esatto perfetto e questo fa onore e piacere a loro stessi questi ragazzi che purtroppo anche questo gambetto qua per esempio si dovrebbe sfruttare un pochettino di più però qui si facevano le vecchie partite davvero tra vecchie glorie gregorio adesso vi presentate per la finale fate la finale oggi adesso facciamo la finale spediamo di vincere ma io infatti gli ho detto vai alla macchina accendi il riscaldamento e così fa il riscaldamento io lo inviterò ad andare al negozio a farci un bel panino invece oggi è a posto chiuso per venire qua se no oggi dovevo aprire